Giugiamo infine al capitolo 25 del Principe, come avevamo annunciato in chiusura della precedente lezione. In questo capitolo Machiavelli tratta del rapporto tra fortuna e virtù. Nel precedente capitolo, se vi ricordate, avevamo affrontato la questione della necessità o meno da parte del Principe di mantenere fede ai patti, cioè alla parola data, ai trattati internazionali sottoscritti. In quella circostanza Machiavelli aveva tirato fuori l'immagine del centauro Chirone, ovvero aveva evocato l'immagine di un principe che deve essere da una parte abile nell'usare le cose degli uomini, la ragione, ovvero le leggi, dall'altra deve essere anche in grado, se necessitato, di saper utilizzare la bestia, meglio le bestie, ne sceglie due in particolare, la volpe e il leone. Nello stesso capitolo 18, intanto per fare una breve sintesi, troviamo il passaggio da cui è tratta, in maniera sommaria e anche piuttosto discutibile, la massima, il fine, giustifica i mezzi. In quel momento, in quel passaggio, Machiavelli sta affermando che la cosa fondamentale per il Principe è mantenere e accrescere il proprio potere, ovvero la stabilità e la durevolezza dello Stato. Tutti i mezzi più o meno eticamente corretti, ma evidentemente non sono eticamente corretti nella maggior parte dei casi, quindi da quelli più, diciamo, legati alla punta della legge, alla lettera della legge, a quelli più scorretti, sia moralmente che dal punto di vista legale, saranno giudicati comunque buoni qualora il Principe riesca a conseguire l'obiettivo che si è prefissato. In questo senso, il fine giustifica i mezzi. Questa massima, lo abbiamo già detto, è stata interpretata in senso negativo, in senso personalistico, ovvero il Principe, per mantenere il potere, per fare i propri interessi, avrebbero così interpretato i coloro che sono, diciamo, venuti dopo Machiavelli e che hanno usato Machiavelli contro Machiavelli, per così dire. Cioè, la lettera del Principe contro lo stesso Machiavelli. Allora, il Principe, per fare i suoi interessi, è disposto a non farsi scrupoli di sorta. In realtà, gli interessi cui il Principe deve badare sono gli interessi dello Stato, la ragione superiore dello Stato, quella che poi diventerà, nella seconda metà del Cinquecento, la cosiddetta ragione di Stato. Ovvero, la politica obbedisce ad una logica che non è quella dell'etica, cioè del comportamento individuale, che può essere giudicato buono o cattivo, a seconda del metro di giudizia, a seconda delle circostanze, ma riferendo tale giudizio sempre all'individuo che agisce responsabilmente o meno nei confronti di un altro individuo. Ecco, di questo si occupa, per così dire, l'etica. La politica, invece, si occupa di una ragione superiore, che è il bene dello Stato, cioè il bene della comunità. E a volte, anzi spesso, per conseguire questo risultato, per ottenere questo risultato, occorre sacrificare gli interessi dell'individuo. Dunque, la logica della politica è diversa rispetto a quella dell'etica ed è diversa rispetto a quella della religione, va da sé. Per questo abbiamo detto, nella prima lezione dedicata a Machiavelli, che Machiavelli è il filosofo che, in qualche maniera, ha inventato il concetto, la categoria di autonomia della politica dall'etica e dalla religione. Quindi la politica è un discorso autonomo. Nel capitolo 25, torniamo alla lezione di oggi, nel capitolo 25, il nostro Machiavelli illustra il rapporto tra virtù e fortuna. Ambi due concetti, lo abbiamo già detto, ma ecco, lo ripetiamo per amore di completezza e proprio perché, ripetita Juvent, per così dire, meglio ritornare sui concetti già espressi, onde fugare, qualsivoglia dubbio. Ecco, virtù e fortuna sono due concetti laici, quindi diversi, totalmente diversi, radicalmente diversi dal modo in cui sono stati intesi fino a quel momento. Dalla tradizione medievale, non hanno nulla a che vedere con la religione. La fortuna è un elemento assolutamente collegato al caso, e il caso è legato all'umanità e alla sua terrestrità. Quindi non c'è nessuna considerazione di tipo religioso, non c'è nessuna considerazione provvidenziale. L'agire dell'uomo si compie e si realizza in maniera intramondana, cioè qui ed ora, qui nel mondo. E viene giudicato secondo categorie squisitamente mondane. È qui che si gioca la partita umana, ovvero non si gioca in rapporto al divino, in rapporto per esempio alla questione della salvezza dell'anima o della realizzazione del progetto divino. Ecco perché il termine fortuna lo distinguiamo nettamente dal termine cristiano di provvidenza. Quindi non c'è in Machiavelli, ripeto, una filosofia della storia, cioè un pensiero più o meno organizzato che dà un senso preciso alla storia. Un senso preciso alla storia che significa? Beh, dal punto di vista cristiano, giudaico-cristiano, la storia ha un suo inizio, la creazione, ha una sua tappa intermedia fondamentale, la venuta di Cristo sulla terra per la salvezza dell'umanità, e ha un suo punto di arrivo, una omega, dall'alfa alla omega per così dire, ovvero il giudizio universale, la fine, la cosiddetta fine del mondo. Tutto è organizzato, tutta la storia dell'uomo è organizzata lungo questa linea del tempo secondo parametri ben definiti. Questi parametri ben definiti si rimettono in ultima istanza al volere di Dio. Quindi capite che c'è dietro una concezione forte che è quella che è risultata predominante nel corso del Medioevo e che continuerà poi a essere utilizzata anche in epoca moderna. Ecco, Machiavelli, in maniera assolutamente laica per così dire, riprendendo categorie tipiche del mondo classico, da buon umanista, quale pure Machiavelli era, fa della fortuna come dire, il punto, il baricentro della storia. Fortuna qui da intendersi in termini di casualità, di evenenzialità. E evenenzialità vuol dire che addominare è il caos dell'evento casuale, l'alea, l'aleatorietà. Cioè l'uomo non può prevedere in maniera chiara e distinta quello che avverrà. Può provare, ecco secondo una serie di previsioni, conoscendo la storia e soprattutto conoscendo l'antropologia, cioè la natura umana, può provare a prevedere quello che avverrà. Fermo ne stando che una parte significativa di quello che avverrà non è in suo potere controllarla. Quindi il buon principe è colui che effettivamente riesce a prevedere, ad attrezzarsi verso il futuro. Fermo ne stando che in ultima istanza ad averla vinta sarà la fortuna, il caso, il caso cieco. Alla fine l'uomo comunque soccombe. Lo stesso principe, per quanto sovraumano possa essere, alla fine è destinato a soccombere all'alea, alla casualità, alla fortuna, per così dire. Naturalmente il principe virtuoso è quello che nella storia delle vicende umane lascerà un segno ben preciso, lascerà una traccia ben precisa, perché avrà ben agito nell'interesse dello Stato, in nome di quella ragion di Stato di cui dicevamo prima. Ma leggiamo e commentiamo, come sempre, quanto possa la fortuna nelle faccende umane e in che modo le si abbia a resistere, le si possa resistere, le si debba resistere. Quindi vedete la fortuna è una forza, per così dire, dirompente, è quello che può fare l'uomo virtuoso e provare a resisterle. Dunque la virtù è la capacità di resistenza messa alla prova dalla fortuna. Ecco perché c'è un rapporto, come dire, bionivoco, forte tra fortuna e virtù. E non mi è incognito, come molti, hanno avuto ed hanno opinione che le cose del mondo siano in modo governate dalla fortuna e da Dio, che gli uomini con la prudenzia loro non possino correggerle, anzi non vi abbino remedio alcuno. E per questo potrebbero iudicare che non fussi da insudare molto nelle cose, ma lasciarsi governare alla sorte. Cioè non mi è assolutamente incognito, so bene che molti hanno avuto e hanno opinione, ritengono, pensano che le cose del mondo siano in qualche modo governate dalla fortuna, senso laico, oppure da Dio, al punto che gli uomini con la prudenzia loro, cioè con la loro virtù, con la loro capacità razionale, non possano correggerle, anzi non hanno alcun rimedio da opporre alla fortuna. E per questo potrebbero giudicare che non fussi da insudare molto nelle cose. Cioè è inutile sforzarsi troppo insudare, inutile sforzarsi troppo nel tentare di cambiare le cose o di piegare la sorte a proprio vantaggio, ma occorre lasciarsi governare la sorte. Beh, questo atteggiamento, lo sappiamo bene, si chiama fatalismo. Mi affido alla sorte, tanto non posso cambiare nulla. Sarà quel che sarà. Sia che questa sorte sia, per così dire, laica, quindi il cieco caso, sia che la sorte venga espressa dalla volontà divina. Comunque sia, all'uomo non è consentito mutare alcunché. Deve rassegnarsi, deve assumere un atteggiamento fatalista. Ebbene, questa è l'opinione dei più. Questa opinione è suta, è stata, più creduta nei nostri tempi per la variazione grande delle cose che si sono viste e vengozi ogni dì, fuori d'ogni umana coniettura. Questa opinione è sempre esistita, per carità dice Machiavelli, ma nei nostri tempi è stata ancora più creduta. I nostri tempi sono quelli terribili delle guerre d'Italia, quindi il presente storico di Machiavelli, per così dire. Per la variazione grande delle cose che si sono viste e si vengono e si vedono ogni giorno, per la grande trasformazione casuale, imprevista. Grandi sconvolgimenti sono accaduti, oggi, ieri e oggi. Fuori d'ogni umana coniettura, chi se lo sarebbe mai immaginata? Chi se lo sarebbe mai immaginata la discesa del re di Francia in Italia? Chi si sarebbe mai immaginato l'exploit del duca Valentino e Cesare Borgia? O un papa come Alessandro VI? O i vari rovesci sui campi di battaglia? Insomma, i fatti del presente depongono, secondo Machiavelli, o deporrebbero, secondo Machiavelli, a favore di questa impossibilità di controllare gli eventi. Non di manco, questa è un'espressione che Machiavelli usa sempre per segnalare, come dire, un passaggio. Cioè, i più credono questo, si sarebbe portati a credere questo. Non di manco, quindi, d'altro canto, c'è da considerare anche che, perché il nostro libero arbitrio non sia spento, iudico poter essere vero che la fortuna si arbitra della metà delle azioni nostre, ma che Eziam, lei, ne lasci governare l'altra metà, oppresso, a noi. Cioè, tuttavia, qui c'è quasi un'affermazione quasi volontaristica, perché il nostro libero arbitrio non sia spento affinché il nostro libero arbitrio non sia del tutto annullato, per non cadere in un fatalismo assoluto. Capite che l'atteggiamento del tutto fatalistico va ad inficiare il discorso di fondo della politica. Machiavelli ha appena inventato, per così dire, la scienza politica. E la scienza politica, così come l'etica, si basa su una schioma fondamentale, lo capite tutti, cioè sulla libertà di agire dell'uomo. Che questa libertà sia totale, sia parziale, sia minimale, quello che vi pare, ma un minimo di libertà di azione deve esserci, altrimenti non ha nemmeno senso parlare di politica, di etica, di politica o di etica. Quindi, siccome è necessario, eh, siccome è necessario che ci sia un minimo di libero arbitrio, affinché il nostro libero arbitrio non sia spento, io dico, ritengo, poter essere vero, eh, che la fortuna sia arbitra della metà delle nostre azioni. Quindi alla fortuna lascerei, ecco, se lo proprio lo devo dire, in termini percentuali direi 50-50, eh, oggi useremmo questa infelice espressione o chiara espressione americana, infelice, perché la possiamo dire all'italiana. 50 e 50, metà e metà. Metà la lascerei alla fortuna. Ma che Eziam lei ne lasci governare l'altra metà. La fortuna concede all'uomo la possibilità di governare l'altra metà. Oppresso, su per giù, lasci quest'altra metà a noi, cioè agli uomini. Quindi il 50% spetta alla fortuna e il 50% alla virtù, cioè la capacità umana, di interrogare la fortuna, di confrontarsi con la fortuna, affermalo, essendo che la fortuna è soverchiante rispetto a qualsivoglia virtù umana. È la fortuna, oddio, chi per lui che concede all'umano, all'uomo, di, come dire, interagire, di governare il cieco caso, di provare a piegarlo, eh, alla propria visione, ai propri proponimenti, ai propri obiettivi politici. Dunque, e t'assomiglio quella, la fortuna, eh, a uno di questi fiumi rovinosi che quando s'adirano allagano i piani, ruinano gli alberi e gli edifizi, lievono da questa parte terreno, pongono da quell'altra. Ciascuno fugge loro dinanzi, ognuno cede allo impeto loro, senza potervi in alcuna parte ob stare. E paragono, è bellissimo questo paragone, è estremamente efficace, paragono, quella, la fortuna, a uno di questi fiumi rovinosi, fiumi in piena, che quando s'adirano, eh, quando vanno su tutte le furie, nel senso, quando vanno in piena, allagano i piani, allagano le pianure, ruinano gli alberi, abbattono gli alberi e gli edifizi, gli edifici costruiti dagli uomini che trovano lungo il loro cammino, quando straripano, no? Lievono, levono da questa parte terreno, spostano proprio la terra, cambiano proprio la geografia del paesaggio, per così dire, pongono da quell'altra. Ciascuno fugge loro dinanzi, che altro si può fare di fronte all'alluvione, no? Si fugge dinanzi, ognuno cede allo impeto loro, se viene travolto dall'acqua non può che cedere, senza potervi in alcuna parte obstare, senza poter fare nulla, senza potersi opporre al fiume in piena. Ebbene, e benché siano così fatti, non resta però che gli uomini, quando sono tempi quieti, non vi potessino fare provvedimenti e con ripari e targini, in modo che, crescendo poi, o andrebbero per uno canale, o l'impeto loro non sarebbe né sì licenzioso, né sì dannoso. E benché le cose stiano in questi termini, non resta, benché le cose stiano in questi termini, agli uomini non resta altro che quando sono tempi quieti, cioè quando ancora, diciamo, il maltempo è là da venire, ma già si prepara all'orizzonte, lo sappiamo oggi, sappiamo che in notturno ci saranno piogge più o meno devastanti, ancora più devastanti ed impreviste a causa del riscaldamento globale oggi, come sapete, no? Questo già lo sappiamo. E allora, quando i tempi sono quieti, oggi per esempio, ciò non toglie che anche, non potendo prevedere esattamente quando ci sarà lo strariempamento di questo, di quel fiume, l'alluvione, la pioggia particolarmente torrenziale, ciò non toglie che ora possiamo fare provvedimenti, possiamo costruire gli argini, possiamo provare a pulire, per esempio, il fondo, il fondale dei fiumi, il letto dei fiumi, dragarlo, le varie scorie che si sono accumulate, bonificare, alzare argini. Questo lo possiamo fare, ma lo possiamo e lo dobbiamo fare in tempo, per prepararci ai colpi della fortuna, perché poi è troppo tardi. Quindi, ciò non toglie che in tempi quieti possiamo prendere provvedimenti, fare provvedimenti, e con ripari, sia con ripari che con argini, in modo che, crescendo poi, le acque, gonfiandosi, o andrebbero per uno canale, quindi andrebbero in un canale che è stato scavato per, come dire, incanalare, far defluire le acque in eccesso, e l'impeto loro, andando lungo questo canale, non sarebbe né sì licenzioso, né così arbitrario, né così dannoso, ci si conterrebbero i danni. Questo è un discorso, voglio dire, qui, Machiavelli veramente, con questo esempio, ci dà anche una lezione di politica applicata, se vogliamo, ma uno dei mali della nostra Italia, un male antico, e non solo italiano, ma, insomma, noi conosciamo bene il nostro territorio, il nostro territorio è un territorio particolarmente fragile dal punto di vista idrogeologico, lo sappiamo, fermo le stando che io di mestiere non faccio evidentemente il geologo, ma, insomma, sappiamo che il nostro territorio è particolarmente fragile. E allora, che cosa significa agire sul territorio? Beh, significa che costa di meno dal punto di vista economico, senza considerare il risparmio delle vite umane, che va messo naturalmente al primo posto, costa molto di meno prevenire piuttosto che curare, cioè alzare gli argini, ripulire il più possibile il letto del fiume, o, per esempio, riammodernare le case, o con delle iniezioni di cemento, con un'edilizia particolare, prevenire gli eventuali crolli provocati da questo, da quel terremoto, non sappiamo esattamente, per tornare a fare un altro esempio, quello del terremoto, noi nelle zone sismiche, non sappiamo se, quando, sì, lo sappiamo, ma quando esattamente ci sarà il prossimo terremoto, né di quale entità sarà il prossimo terremoto, ma, insomma, è ora che non c'è il terremoto che possiamo, come dire, riammodernare le case, costruire fondamenta più solide e aggiornare le costruzioni già esistenti secondo le norme antisismiche, perché ricostruire il paese raso al suolo, vedi, la vicenda recente, esattamente a quattro anni fa, di Amatrice, o il terremoto che ha colpito il centro Italia, Rieti, l'Aquila nel 2009, terribile, una ferita ancora aperta, ecco, quando poi dobbiamo piangere i morti o dobbiamo ricostruire una città raso al suolo, a quel punto è troppo tardi, i morti non ce li riporterà più nessuno in vita e la ricostruzione del territorio sarà assolutamente più costosa rispetto all'opera di prevenzione. Ma, ecco, questa è pura accademia, sono considerazioni molto semplici. In generale, questo esempio vale anche per tutte le attività politiche. Ovvero, se io debbo in qualche maniera affrontare in futuro questo o quel conflitto con il mio più o meno potente vicino, io la guerra la debbo preparare per tempo. Non posso aspettare che il mio vicino, il mio confinante, mi dichiari improvvisamente guerra o attacchi guerra e mi trovi impreparato. Io le fortificazioni, l'esercito lo debbo preparare in anticipo, le armi le debbo preparare in anticipo, debbo in qualche maniera prevedere i colpi della sorte e della fortuna. In questo consiste la virtù del buon politico. Similmente interviene della fortuna, la quale dimostra la sua potenzia, dove non è ordinata virtù a resisterle, e qui vi volta li sua impeti, dove la sa che non sono fatti gli argini, e li ripari a tenerla. Cioè la fortuna si manifesta in maniera, il cieco caso, si manifesta in maniera ancor più disastrosa, ancor più cieca, ecco per così dire, se mi passate la metafora, laddove sa che, metaforicamente, questa fortuna personificata non c'è ordinata virtù a resisterle. Per fare un esempio, sempre di natura bellica, forse più consono al principe di Machiavelli, io attacco, se devo attaccare più vicini, se ho da scegliere tra questo e quello stato confinante da aggredire per estendere i miei domini, vado ad aggredire quello stato che so essere meno preparato dal punto di vista bellico, non vado ad aggredire quello che so essere preparato, quello che ha già costruito le fortificazioni per respingere il mio attacco. È più conveniente attaccare lo stato vicino, diciamo, debole, non preparato, che poi era quello che sostanzialmente era capitato agli stati italiani, agli staterelli italiani, aggrediti nella fine del 400, all'inizio del 500, conquistati, corsi, l'intera penisola è corsa dagli eserciti francesi, spagnolo, quello asburgico, quello imperiale, e così via. E infatti poi, esattamente questo, l'esempio che fa Machiavelli, quindi ha illustrato due argomenti per via metaforica, e poi viene alla storia contemporanea. E se voi considerrete l'Italia, se prendiamo in considerazione l'Italia, che è la sedia di queste variazioni, il luogo dove avvengono queste variazioni, e quella che ha dato loro il moto, vedrete essere una campagna senza argini e senza alcun riparo, che se la fossi reparata da conveniente virtù, come la Magna, l'Alemagna, la Germania, la Spagna e la Francia, o questa piena non avrebbe fatto le variazioni grandi che ha, o la non ci sarebbe venuta. E questo, voglio, basti avere detto, quanto all'avere detto all'opporsi alla fortuna in universali. Allora, ho fatto l'esempio dell'Italia. Se pensate all'Italia, che è il luogo dove avvengono queste variazioni, e quella che ha dato a loro il moto, cioè che ha dato a loro il movimento, che è stata causa del movimento, di questi grandi cambiamenti storici, vedrete essere una campagna, essere simile ad una campagna senza argini e senza alcun riparo, quindi pronta per essere allagata dal fiume in piena, per così dire. Tanto che, se ella fosse stata riparata da conveniente virtù, se l'Italia fosse stata, come dire, riparata, protetta, difesa da conveniente virtù, cioè la virtù militare, da preveggenza politica, e se si fosse attrezzata prima a resistere al nemico, come la Magna, come hanno fatto la Germania, l'impero, come hanno fatto la Spagna e la Francia, che nel frattempo avevano già costruito i loro stati nazionali, no? Mentre nel Quattrocento in Italia si costruiscono indubbiamente degli imperi economici, no? L'epoca del mecenatismo, del rinascimento, dell'umanesimo, gli altri paesi dell'orococcidentale sono impegnati, vedi, il rapporto, per esempio, tra Inghilterra e Francia in una serie di guerre, che sono dei laboratori da cui escono fuori gli stati nazionali. la Spagna invece è impegnata nella cosiddetta reconquista. Questi secoli di guerre hanno, come dire, forgiato degli stati nazionali, delle monarchie nazionali con degli eserciti pronti ad aggredire i vicini. Ecco, in Italia è mancata questa preparazione, è mancata la realizzazione dello Stato nazionale e la preparazione militare ed è esattamente questo che sta qui lamentando Machiavelli. Quindi, se fosse stata riparata la conveniente virtù come la Germania, la Spagna, o la Francia, a questa piena non avrebbe fatto o questa piena non avrebbe fatto le variazioni grandi che ha fatto effettivamente o non sarebbe proprio venuta. Cioè, all'attacco del nemico avremmo comunque resistito meglio oppure non sarebbe proprio avvenuto alcun attacco. Si sarebbero ben guardati all'aggredire la penisola italica. Capite? Quindi la riflessione che sta facendo qui Machiavelli è collegata con la storia contemporanea ed è in qualche maniera va in quella direzione. qualcuno ha parlato di una sorta di patriottismo di nazionalismo antelittera ma non è esatto parlarne in questi termini naturalmente. Però la sorte dell'Italia della penisola la tutta in particolare di Firenze chiaramente sta a cuore del politico del diplomatico Machiavelli indubbiamente e infatti il principe si conclude proprio con un invito alla compattezza dell'Italia un invito che arriva in maniera molto preveggente per così dire 400 anni prima 4 secoli prima del compimento della realizzazione dell'unità d'Italia evidentemente queste considerazioni si possono fare soltanto con il senno del poi e rapportate all'epoca umanistico rinascimentale all'epoca di Machiavelli lasciano molto il tempo che trovano ma insomma l'idea è esattamente questa quindi basta dire questo per quanto riguarda la possibilità di opporsi vittoriosamente alla fortuna adesso leggiamo il prossimo paragrafo ma restringendomi più a particolari dico come si vede oggi questo principe felicitare cioè avere successo e domani ruinare cioè cadere andare in rovina senza averli veduto mutare natura o qualità alcuna il che credo che nasca prima dalle cagioni che si sono lungamente per lo addietro discorse cioè che quel principe che si appoggia tutto in sulla fortuna rovina come quella varia quindi il principe che fa affidamento solo sulla fortuna solo sull'alea e non previene in tempo la fortuna con un'adeguata preparazione in termini di virtù è destinato comunque a cadere a rovinare credo ancora che sia felice quindi che abbia successo quello che riscontra il modo del procedere suo con le qualità dei tempi e similmente sia infelice quello che con il procedere suo si discordano i tempi allora qual è la vera qualità la vera virtù del principe la vera virtù del principe è quella di intercettare per così dire lo spirito dei tempi di saper cogliere in che direzione spira il vento cioè di agire conformemente a quello che è il percorso storico di saperlo fiutare di saperlo intuire chi invece va contro la logica dei tempi chi va prova ad andare controcorrente va a realizzare un progetto che è irrealistico rispetto alle reali condizioni storiche chiedi quel preciso periodo storico è destinato a ruinare cioè è destinato ad andare in rovina cioè a perdere il potere indubbiamente perché si vede gli uomini nelle cose che li inducano al fine quale ciascuno ha innanzi cioè glorie e ricchezze procedervi variamente l'uno con rispetto l'altro con impeto l'uno per violenza l'altro con arte l'uno per pazienza l'altro con il suo contrario ciascuno con questi diversi modi vi può pervenire quindi non esiste un modo solo per conseguire il fine ognuno ha il suo modo a volte un determinato modo è più coerente per caso per fortuna è più coerente con quello che è lo spirito dei tempi cioè va nella stessa direzione della fortuna cioè il principe virtuoso è quello che in qualche maniera sa trattare la fortuna che è una è donna da questo punto di vista va sedò va sedotta va ammaliata va corteggiata per così dire di qui nasce quello che ho detto che due diversamente operando sortiscono il medesimo effetto e due ugualmente operando l'uno si conduce al suo fine e l'altro no quindi può capitare che adottando il medesimo atteggiamento uno dei due principi fallisce l'altro invece ha successo oppure operando in maniera completamente diversa completamente opposta entrambi riescono a sortire il medesimo risultato da questo ancora dipende la variazione del bene perché se uno che si governa con rispetti e pazienza e tempi e le cose girano in modo che il governo suo sia buono e viene felicitando ma se i tempi e le cose si mutano rovina perché non muta modo di procedere quindi anche qui bisogna sapersi adattare bisogna essere estremamente flessibile ecco in che cosa consiste la prudenzia ovvero la capacità di saper cogliere l'attimo giusto quello che i greci chiamano airos cioè il momento giusto fare la cosa giusta al momento giusto essere abbastanza flessibili per capire che quel determinato atteggiamento quel determinato comportamento quella determinata condotta politica è efficace in quella circostanza ma non in un'altra circostanza andiamo avanti salto il paragrafo successivo in cui sostanzialmente Machiavelli fa alcuni esempi tratti sempre dalla contemporaneità cita Papa Giulio Giulio II della rovere quello di cui abbiamo parlato nella precedente lezione e arriviamo alla conclusione quella in eritto concludo dunque che variando la fortuna estandoli uomini nei loro modi ostinati sono felici mentre concordano insieme e come discordano infelici quindi concludo dunque che cambiando la fortuna se gli uomini cioè i principi in chi ha in mano il potere sono ostinati si dimostrano ostinati nei loro modi c'è una loro condotta nei loro mezzi sono felici mentre concordano insieme mentre fortuna e virtù per così dire vanno nella stessa direzione ma appena discordano appena la fortuna appena la fortuna prende un'altra direzione appena gli eventi cambiano appena il vento inizia a spirare in un'altra direzione inevitabilmente diventano infelici cioè sono destinati alla rovina al fallimento io gli udico bene questo che sia meglio essere impetuoso che il rispettivo perché la fortuna è donna è necessario volendola volendola tenere sotto batterla ed urtarla efficace maschilista decisamente maschilista ma efficace come immagine no questa di Machiavelli qui veramente di impeto anche qui volontaristico è una cosa caratteriale io penso bene giudico bene questo col mio fiuto col mio istinto è quella mia esperienza di politico che sia meglio essere impetuoso che rispettivo cioè che ha successo quello che è più impetuoso che è più violento quello che sa prevenire che sa cavalcare che sa anticipare la fortuna quello più coraggioso fortuna audaces iubat è il proverbio dei romani la fortuna aiuta gli audaci piuttosto che rispettivo cioè che ha più successo chi aggredisce la fortuna piuttosto che chi sta sulla difensiva perché la fortuna ecco metaforicamente è una donna è femmina ed è necessario volendola tenere sotto batterla e urtarla la presa legnate torna a casa e dà una legnata a tua moglie recita un proverbio di quel tempo del 300 del 400 cioè un proverbio antico dai una legnata alla tua donna a tua moglie e tu non sai per quale motivo ma lei sa lei lo sa quindi la donna va tenuta in questa maniera naturalmente non è il mio pensiero per carità è il pensiero di Machiavelli ma anzi qui è una metafora quindi la donna qui è la fortuna evidentemente l'idea è quella di anticipare la fortuna di imbrighiarla di tenerla ben ferma e si vede che la si lascia più vincere da questi che da quelli che freddamente procedono cioè quelli più impetuosi hanno più diciamo più facilità a vincere la battaglia con la fortuna a vincere questa competizione con la fortuna piuttosto che quelli che sono più più freddi più distaccati e però sempre come donna è amica dei giovani e perciò però qui è perciò e perciò sempre come donna essendo donna è amica dei giovani perché sono meno rispettivi più feroci e con più audacia la comandano quindi la fortuna è più pronta a piegarsi ai giovani perché sono meno rispettivi hanno meno rispetto ma anche meno prevedibili sono più feroci e più impetuosi hanno più voglia di fare è una legge di vita bisogna farsi da parte i giovani sono più forti più feroci hanno più forza nelle loro azioni perché la vita parla con un ottava più in alto rispetto alle persone adulte rispetto agli anziani gli anziani si hanno voglia di ritorno quindi è chiaro che i nuovi principi corrono il rischio di non essere prudenti di essere in aspetti però hanno sicuramente tra la loro parte la voglia di arrivare la brama di arrivare e la vitalità che evidentemente una persona anziana o con gli anni non ha più e con questa bellissima metafora bellissima intrigante terminiamo il nostro discorso su Machiavelli spero che queste lezioni siano state chiare e nello stesso tempo come dire analiticamente ricche dense vi consiglio a chi volesse approfondire magari pochissimi ma insomma non disperiamo alcune conferenze che sono presenti su youtube le ho segnalate in questa pagina in particolare un paio di interventi di uno dei massimi esperti italiani di Machiavelli cioè il professor Gennaro Sasso perito professore di storia della filosofia dell'università la sapienza uno dei massimi esperti in Italia appunto del pensiero Machiavelliano e con questa lezione vi do termino lezione vi do appuntamento alla prossima lezione e continueremo sempre la nostra ricognizione di filosofia politica in età moderna arrivederci buono studio